Buongiorno ragazzi, ringrazio per seguire noi e vi mostrerò cosa vi riceverete quando avete un test pit. Inizia la box vi riceverete 4 pezzi principali, che sono il grande blocco ID, la parte parte della parte parte della parte parte centrale, ok? Questa è una riduzione del reale, ovviamente, quindi vi puoi mantenere tutto in un molto piccolo spazio. Poi su questo vi riceverete anche una box, inizia la box vi riceverete un screw, un M6, 8 pezzi e 4 pezzi di M4. Questi sono un screw end che puoi installare facilmente. Questi sono un set di 4 pezzi per l'ICP. Questi sono altri 4 pezzi per inserire tutto e sono stati inserire. Questi sono un modificio pezzi che puoi usare in caso di produrre un MFT per altri compagni, come Trustmaster o un Coupesim. Ora vi mostrerò come assemblerlo insieme. Ora vi suggeriamo di installare il test pit on a tavola, per la versione di tavola di tavola, ovviamente, e cominciate a tagliare la scuola, la scuola di tavola, non troppo forte, ma non troppo forte. Ok? Poi, dopo questo, prendete il pedestale centrale e due M6 e poi prendete la marca sull'acqua e lo prendete insieme. È abbastanza facile, direttamente, non prendete più di 5 minuti per cercare tutto. Ok? Una volta che hai fatto questo, il prossimo passo è prendere questo blocco, mettete il blocco sotto, sotto, solo per assicurare che tutto sia nella posizione giusto, sempre seguendo la linea, e prendete il M6 e il screw. Abbiamo un posto sotto. Abbiamo due oltre parte, due oltre parte, due oltre parte, e due oltre parte. Quindi, se sei qui, tu sei in mezzo di tutto, per il mio passaggio. Il prossimo passo è portare le ultime spiega, sempre il stesso passo. E' sempre la passaggio. Molto forte. Il prossimo passo è ad aggiungere l'HUD block. Ok, abbiamo i ultimi 4 conicure, i conicchi, per assurare un po' di più di più, per rendere la struttura un po' più narrow e più forte. Ok, ora abbiamo tutto installato bene e come ho detto prima, possiamo costruire su questo il RVR, il WR, c'è anche la possibilità di costruire il DAD e anche l'ICP. L'ICP è la versione Pro, quindi puoi mettere il cable all'interno e poi, usando il 4-scrure, che si trovi nella box, puoi mettere tutto in un'altra parte. La prima cosa che voglio mostrare è che usiamo per il centro-pedestale e, dopo questo, quando produciamo i monitor, andiamo a usare un plexiglass special, è un non-reflex, ma non è un standard non-reflex, è un materiale di qualità, non-reflex materiale. Quindi, qui puoi vedere la versione del desk pit installata, per qualsiasi domanda puoi mandare a noi, e vi cercherò di dare tutte le informazioni che vogliamo. Grazie, ciao! 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 Grazie a tutti